Partita la manutenzione del verde orizzontale in tutta la città. Aggiudicato il bando europeo da 4 milioni di euro. In azione 46 squadre per ridare bellezza e decoro a ville e parchi. Online sul sito di Roma Capitale i dettagli e gli aggiornamenti degli interventi programmati. Aumenta la vendita dei biglietti ATAC. Da gennaio ad ottobre di quest'anno incassati oltre 224 milioni di euro. Solo ad ottobre venduti più di 25 milioni di euro di biglietti. Un risultato che premia le misure intraprese, tra cui il rafforzamento dei controlli sui mezzi. Proseguono i lavori della nuova ciclabile Nomentana nella zona nord della città. Ultimato il primo tratto tra Porta Pia e Viale Regina Margherita. Ora si procede fino a Viale 21 aprile. Un percorso di 4 chilometri atteso da oltre 20 anni da ciclisti e romani.